E' questo Lino Vai vai 1 Passare Et Et 4 5 5 5 5 Perlu, Giuvratso il Giuvratso la Prima Perlu, perlata questa Molta attenzione del quadrato Non è un sfumato 50 Anche il Siamo ci ci sta adresa un ponte Trezzi in ponte Perlu, la stessa 5-50 Sono 6-80 Passa al posto la attenzione del quadrato che non si è riuscito Non si è riuscito il porto che ti costava 4 6 di Salnello in scala per attenzione basta il GINP trattore per il GINP trattore il GINP trattore pieno gioco a questa del Salne attenzione 15n è scuola 0,2 di Salnello in scala attenzione non salto scuola a gioco a meno perGINP trattore pieno perGINP trattore pieno che gioca 10 riuro perGINP trattore pieno riuro perGINP trattore pieno 30 80 50 60 80 80 70 80 70 sinistra 6, 70 sinistra, al palo sinistra 5, 2, 200 sinistra, molta attenzione per manco destro, più in verde, sono 30 sinistra in verde, molta attenzione, sinistra 3, 2, 2, il pesta, una 네가 a ch entsprechide, che per ritardo a nuova attenzione, da questa sinistra piena 150 a destra molta attenzione per il manto destro più e più e sforzo 200 a sinistra molta attenzione 300 a meno resta 3 a meno 50 a sinistra 50 a sinistra sinistra 4 a meno 4 407 410 14 a meno prima 14 a meno